non sembra che possiamo aspettarci schiarite per questa gara anzi le squadre stanno preparando le coperture da bagnato in caso di bandiera rossa salve popofiere popofiere bentornati in questo nuovo video in questo nuovo video siamo su moto gp24 siamo a bad in india le prove libre e le qualifiche non sono andate bene parto sedicesimo scendiamo in pista e vediamo un po come andrà la gara anzi trentesimo non si è deciso trentesimo ultimo e vabbè pazienza allora danno possibilità di pioggia quindi potrebbe esserci durante la gara la bandiera rossa è un cambio moto vedremo vedremo però adesso non preoccupiamoci di questa cosa calcassetto bag si assetto manuale ecu ok gomme media all'anteriore e soft al posteriore inizia la gara siamo pronti per lo spegnimento dei semafori qui dal circuito di bud ancora pochi istanti e daremo il via alla gara e prima dentro gas a martello e via 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 partiti ora superiamo la posizione il custodio in cinque giri in cinque in cinque in cinque il secondo giro iniziato 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 iniziato